Ragazzi, guardate questo qua che sta andando da quella parte È Shin Sonic Un segreto zoso Sonic cattivo Tu Eli conosci chi è Shin Sonic? Purtroppo sì, ho paura Perché mi... Ma cos'è successo? Ti sento da lontano adesso Oddio che paura, ma perché ci hanno messo qua? Magari ci vogliono uccidere, aiuto Ma chi ci vuole uccidere? Cioè, chi è che pensi che ci abbia messo qua? Non lo so, qualcuno Le forze speciali Le forze speciali... No, no, non fare il complottista, amico mio Qua qualcuno ci ha messo di pazzo Sicuramente, perché non dovremmo stare in prigione Con Shin Sonic, ragazzi Guardate che brutti denti che ha Porca vacca, iniziamo a scappare prima che sia troppo tardi, ok? Iniziamo, iniziamo, ci stanno anche assorbando Guarda qui! Sicuramente più belli Dei miei denti, comunque, ce li ha Sonic Andiamo, 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 andiamo Ragazzi, c'è un problema, abbiamo un problema Qua davanti a noi, cosa sta succedendo? Un bacio vivente Ma perché... Sergi, ma... Cioè, se ci guardi... Hai un problema... Cioè, non so perché tremavi I poteri forti vogliono portarci in questo tunnel Per fare degli esperimenti strani su di noi Aiuto! Ve ne voglio andare da qui! Non è vero! Guarda! È semplicemente un tubo Perché qua si può scappare, vedi? Continua a... A pugnare Cosa vuol dire, continua a pugnare? In che senso? Ok, bisogna fare... Pem, pem, pem Ah, bro! Ah! Dove siamo? C'è Sonic qua dietro, ma perché... Quanto fa fuori l'aiuto! Sì, va bene, ma perché c'è un pulsante rosso qua? Che cosa fa? Acquistare Shin Sonic per ben 400 Robux O 149? Non voglio, grazie Sono i servizi segreti quelli! Non sono i servizi segreti! Smetti di fare il complottista! Vai, andiamo, scappiamo per favore! Che voglio andarmene il più presto possibile di qua! No, infatti, guarda Andiamocene via Prima che sia troppo tardi Anche perché qua Shin Sonic L'unico pericolo che c'è Non sono i servizi segreti Sono Shin Sonic E qui cosa facciamo? Ci buttiamo? No, adesso andiamo Ah! Salta! Porca ma... No, sono morto Ah! Io lo sapevo! Muoio sempre! Muoio! Sempre Ah! Adesso sono morto! Ok, ritorna E riandiamo insieme Ma queste qua non sono a tempo quindi? No Ah, ok Sì, sono a tempo Meno male Andiamo! Forza, forza, forza Ah, vedi? Allora, questa è una chiave inglese La vedi? Eh, ma dove potrà andare? Mai andare questa? Allora, non... Praticamente Non inventarti strane idee Sui poteri forti, eccetera Che non esistono Forza, andiamo qua dentro Ok, perfetto Non mi fa passare! Come non ti fa passare? Prendi anche tu la chiave inglese È veloce, bisogna scappare da Sean Sonic Ci sono, ci sono, ci sono Aiuto lì Non ti sento più Cos'è successo? Ragazzi, siamo rimasti solo io e voi Il mio amico non c'è più Io ti sento Ora ti sento anch'io Però tu non ci sei Ah, eh No, aspetta Non ci sei col cervello Perché ti blocchi? Eh, sono i miei servizi segreti Che hanno messo un chip Nel mio cervello Mi controllano E io sento qualcosa dietro di me Invece che mi hanno messo i servizi segreti Comunque, andiamo Ehm Qui Perché Guarda, qua c'è Sean Sonic Attenzione Aiuto, viene verso di noi Mi sa Forse gira No, 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 non gira Mi sa che vuole ucciderci È il servizio segreto No, 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 no Aiuto Mi sa che Vuole metter Allora, praticamente Ok, ho spremuto qualcosa Ho spremuto Dove sei finito? Vieni qua Sono qui, sono qui No, ma mi sta seguendo Bro, ma dove sei finito? Sono dito di te, arrivo Ah, eccoti qua Ciao, ciao, ciao Ok, perfetto Andiamocene via Vedi, Sean Sonic Ci stava seguendo E ci voleva uccidere Oh, siamo sicuri finalmente Santa barbarina Australopitecosa Bisogno di attivare il pulsante rosso Quale bisogno di attivare? Il pulsante rosso Ah, forse quello sotto Che abbiamo già attivato Quello che hai premuto tu, sì Meno male, guarda Che ci sono io Che sono bravo Ora, andiamocene da questa parte Meno male Tu sei sempre il migliore Grazie Adesso mi divento rosso E poi dopo sembri uno dei servizi segreti Che vuole fare cose Quindi evitiamo Adesso Qua c'è una pala Qua si può scavare Andiamo a scavare sotto Sbam, sbam, sbam Andiamo Scaviamo ragazzi Tutti sotto di noi Non si fa I servizi segreti Non si può fare Non ci sono i servizi segreti Però questa è una caverna strana Vedi, ci sono un sacco di cose strane Puoi diventare complottista Diventa complottista sul cesso Vieni Qua c'è un cesso Qua che cosa hai da dire del cesso Eh, ci sarà una telecamera nascosta Ah, no Mio Dio Non è vero ragazzi Tranquilli I complottisti dicono sempre cagate Senza offesa Anche questa candela potrebbe essere qualcosa di strano Vedi che ci fa sottraverso È vero, è vero Attenzione Comunque avremo sotto i nostri video pieno di complottisti incacchiati Probabilmente Però Che cacchio ce ne importa Dopotutto La terra Ci dicono i complottisti che è piatta Ma noi sappiamo anche sferica Infatti La terra è piatta Non è vero Eli Smetti di fare disinformazione Questo ponte potrebbe cadere da un momento all'altro Infatti Soprattutto Vedi queste Fermo, fermo No, no Stavo per cadere aiuto Ma ti dico fermo Stai fermo Un attimo Fermo, sono strettolo qua Morca vacca Ti ho detto di stare fermo Perché adesso sei venuto di nuovo indietro Vedi? Queste cose le ho viste Diventano Si rompono Quindi stai attento quando salti Non mi dire che sei saltato Minchia sei proprio No Ho detto una brutta parola Ho detto una brutta parola Ok però bene Saltiamo Saltiamo Ok Perché Non dovevi saltare insieme a me Devi avere Salta giusto Ok Bravo, bravo, bravo Bene, bene, bene Ce l'ho fatta Ok fermo, fermo, fermo Perché tu sei agitato E mi stai agitando ancora di più Ok devi seguirmi Devi seguirmi Mi sento osservato Mi sento osservato È quello Adesso Ah è vero perché qua c'è un teschio Vedi? Sì Però posso dirti Non si vede più un cacchio Quindi bisogna Prendere una torcia Non c'è una torcia qua Da qualche parte? Ehm No Molto Negozio forse Andiamo nel negozio Vediamo un attimo ragazzi Che cosa si può acquistare qua nel negozio Perché ci sono cose sicuramente utili Tipo questa bevanda Per farti galleggiare In un'atmosfera a bassa gravità A noi queste cose non ci servono per ora Ma ci servirebbe giusto una torcia La cosa base Che però non c'è La cosa base Che serve in tutti i giochi Esatto E non c'è Bene Come si esce da qua? Tu sai qualcosa? La E Perché parli così Tutto ad un tratto Comunque non è vero Non è la E C'è scritto exit sotto Uscita? Non c'è scritto exit C'è scritto uscita Però C'ho il gioco in inglese Vedete ragazzi Io non so leggere Non prendete esempio da me Allora Adesso non è vero Comunque so leggere Boh Qua sono caduto Non so come sia possibile Ma perché tu ti Allora Adesso ti spacco la faccia Perché ti fermi dal parlare? Vieni vieni veloce Perché c'era una palla che Che era andata Quindi bisogna andare da questa parte No veramente Aiuto Comunque questa parte è un disastro amici Perché Cioè non si vede niente Bisogna evitare le palle Mi raccomando E attenzione Cosa ridi? Non fare il bambino di due anni Per favore Andiamo Sei morto dai Per favore Che potevi vincere Invece non hai vinto Sei morto Stavo tornando indietro Sono sicuro Ok ti aspetto Comunque Usa un po' più di voce Grossa Se no non si capisce niente Di quel che dici Eh va bene così Grossa 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 Ma comunque una cosa Senti c'è qualcuno Ho morto di nuovo Ma che Non me ne frega Di cosa fai tu Stavo dicendo Prima che mi interrompessi Guarda Scusa C'è uno dei poteri forti qua Che mi sa che sta parlando Che io lo sento Ehi No aspetta Ehi ciao No Ehi ciao Oddio Ma chi sei? Non ho uno dei poteri forti No Cosa vuoi farmi? Eh hai visto Mi sa che ci sta seguendo Un tizio dei poteri forti Ragazzi Ma il tuo microfono Amico mio Ha un problema Comunque Cioè questa cosa va Risolta immediatamente Eh non lo so neanche Per quale motivo Allora vedi Là c'è La scinsonica Che è tipo La scinsonica Donna Andi No Andiamo dietro Ma aiuto aiuto Ha paura io Ma che è? Eh ma guarda Non so ragazzo Però Vabbè Senti andiamoce ne No ti prego Non mi uccidere Non mi uccidere Dio birillo Allora Bisogna far andare Scinsonica Cosa hai fatto adesso? Cosa c'è? Mi ha preso Mi ha preso Eh anche a me Adesso facciamola andare Dall'altra parte Mentre va dall'altra parte Lei non ci deve vedere Ok? Facciamo così Se no Mi faccio inseguire Mentre tu fai qua Bella idea Va bene Ah Comunque Un'ottima idea Sai perché? Perché in effetti Andrebbe fatto tipo il giro Vai Fai il giro Seguimi Sonic Seguimi Ma perché non ti segue a te? A me sto seguendo Ma non Ah Ognuno ha il nostro Sonic Quindi Ah Ok quindi Praticamente bisogna Farla andare da questa parte E poi dopo Entrare direttamente nel buco Quindi Entriamo nel buco Forza Andiamo 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 Aiuto Mi stai seguendo Mi ammazzo di nuovo Cosa bisogna fare? Ah L'ho preso Ah Ok adesso Siccome ho aperto Abbiamo aperto entrambi Adesso bisogna andare da questa parte Quindi Ma perché è caduta? Guarda Guarda è caduta Mi senso è caduta E mi Boh la mia era caduta Di testa Andiamo Forza 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 Entra Entra Qui dentro Veloce Veloce Ok No ma io non ho aperto Non ho aperto Aiuto No allora devi aprire Veloce apri Devo aprire Devo aprire Nell'altra stanza Nell'altra stanza devi aprire Guarda qua c'è Shinsonica Io non so come Come chiamarli Questi tizi Ah Ma ti ha preso? Sì Porca vacchettona Allora dobbiamo nasconderci Però praticamente lì c'è Shinsonica Lì c'è Shinsonic Gold E lì c'è Shinsonic Come si chiama Quest'altra versione Rossa e nera di Sonic Non lo so Black Ragazzi scrivetecelo Nei commenti Perché voi siete Molto più esperti Di noi in Sonic Sicuramente Però questa versione Di Shinsonic È veramente Pericolosa ragazzi Anche perché poi Se l'avete visto Sul primo canale Comunque Mi ha distrutto il drone Ma sono tutti dei piani Che vogliono Farsi esperimenti Non ne hai capito ancora Ma non è vero Non è vero Non ci vogliono fare esperimenti Secondo me Shinsonic è una creatura Che semplicemente è cattiva E per quello Ci sta uccidendo Allora praticamente C'è scritto rinascita Perché rinascita Che fa questo pulsante Dov'è che ci fa rinascere esattamente Che bisogna fare Eh Bisogna premere questa leva Hai ragione Non l'ho vista Sei un genio Ok Premiamo la vela E la vela Sì la leva La vela Sì Rema E infatti Ma vedi che poi Io sono un pochino Non riesco a parlare Mi sa Ok però Eh sì Anche a te Ti chiede continuamente Eh vuoi mettere La preferita Questa modalità Sì Io non voglio mettere Questa modalità Sarei preferiti Mi ho saltato i traumi Eh ma poi L'ho pure messa Venti volte comunque Allora Che cosa fa questa Mi dà delle bevande Ti dà una super velocità Guarda Che figo Bellissimo Ok saltiamo Un Due Tre Dai Ce la facciamo Cinque No Sono caduto nella lava Porca No Sono caduto nella lava Io Vabbè però adesso Riprendiamo Ok secondo me Guarda che qua Ti puoi inventare Qualcosa di complottista Questo percorso È È Basato su Una Un esperimento Dell'area 51 Sai su cosa è basato Su questo esperimento Dell'area 51 Sul fatto che A me Devono proprio Disezionare Proprio come hanno fatto Con quell'alieno Che si dice Che l'hanno disezionato L'hanno tagliato Perché Porca vacca Sono talmente stupido Perché continuo a cadere Cadere Nella vita Ho caduto anch'io di nuovo No alla fine Non cadere Allora Nella vita è normale Cadere Come disse un saggio Ma bisogna anche Sapersi rialzare Giusto Sì Ok bene No perché ho voluto fare Questo piccolo momento saggezza No Giusto per poter dare Quella saggezza in più Il saggio sinese Dice Fai i meme per caso Le battute No 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 Scusa Andiamo Due Due Tre Quattro Cinque Bene Siamo arrivati qua Però mi sa che Dall'altra parte Si è sicuro che non si va di là Infatti Eh ma Prima voglio capire cosa c'è qua Hai qualcosa da dire No no Sei sicuro che non ci sono telecamere Ma Che palle Che sei Io mi sento osservato ad esempio Sta lampada qua Cosa fa questa lampada Dimmi un po' Potrebbe Potrebbe osservarci Hai ragione Hai proprio ragione No 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 Non ho fatto niente Mi sa che avevi ragione Guarda ci sono le telecamere dentro Ragazzi Io ormai mi sono rassegnato Di dirgli che non è vero Perché Io resto qua Vieni qua Hai ragione C'è una telecamera No 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 Io ho paura delle telecamere Ma ragazzi Ma c'ha ragione Il complottista in questo caso Fa ragione Forse Quasi Di solito Hanno sempre torto Ragazzi Non fidatevi mai Dei complottisti Comunque Ehm Pratica Che dove si bisogna andare Trova una scala Dice Di qua Ma che Perché parli così adesso Eh no Scusa Mi ero un attimo addormentato Scusa Ma ti hanno iniettato Qualche veleno Mi sa eh Sì mi hanno messo Un altro chip Che mi permette Di addormentarmi Alla comando Va bene Ok Però qua Bisogna aprire la porta No Bisogna andare da questa parte Forse E io premo Sto premendo A ripetizione Ma non va Ok poi Ho aperto E poi Che fa Tu hai la scala qua Sì devi Andarla a prendere Ah Da questa parte quindi Ne ripostiglio sempre Ah sì Ok ma perché Ti addormenti Te l'ho detto Mi controllano Va bene Ok Poi io ho premuto Un pulsante Non so che fa Quel pulsante Hai aperto la botola Penso Può essere eh Allora Non voglio metterla Fra i preferiti Ok Mamma mia Proprio spammona Questa modalità Non si dice Perché poi ci denunciano No sto scherzando Non so Non rischierei comunque Allora Praticamente Io non so come mettere sotto Questa scala del cacchio Devi metterla Ah perfetto Ce l'ho fatta Dai Non devi ritornare giù Ok Ti volevo aiutare No non puoi aiutarmi Intanto ognuno C'ha le sue cose Quindi Le sue cose In che senso Vai a quel paese Allora Adesso Piccola pausa Perché qua Perché qua non si vede un cazzo Io sono uno di Ti faccio sì Cima in faccia Dei poteri forti Io faccio poteri Maia mi fai male Mamma mia Che fortezza Guarda come ride No ragazzi 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 Bisogna Maia Orca sozzona Forca vacca No 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 Salta 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 Forca vacca Bisogna sparargli Spariamo Ma lo sto prendendo Almeno Non lo so Vedi la vita in basso Insomma ragazzi Mi sta Salta Sono morto No non morire Non morire Oh bro Mi raccomando Stai attento Cioè parla Mi raccomando Sì sono Sono qua Ok Sono quasi Sono quasi ucciso Quasi ucciso Vai L'ho ucciso Sonic delle forze speciali Grandi così L'abbiamo ucciso Tutti quanti Ma io ancora no Aiuto Vai ce la puoi fare Io intanto Entro qui dentro Niente anzi Intanto ti aspetto Qua c'è la SWAT Ragazzi Porca vacca Tu hai paura della SWAT Vero perché Eh sì FIA open up Aiuto Veloce Veloce Uccidici in Sonic Così almeno Comunque se vedi Ci sono delle telecamere qua Stai attento Non mi devono osservare Aiuto Ok Sono entrato dentro la SWAT Bene Andiamocene Veloce Andiamo Bro Ce l'abbiamo fatta Siamo scappati Dalla prigione Di Shin Sonic Wuhuu Sì Grazie Grazie alle palle A tutte le cose Che ci hanno aiutato Ancora Dobbiamo andare Vabbè però Comunque ci siamo riusciti Siamo usciti fuori dalla prigione Il che Ti lancio delle ananas In testa No ti lancio io Degli ananas in testa Pem 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 Ma guarda qua Che c'è qua Non lo so Ma ti sei addormentato Tu da un tratto No Sì Mi hanno Avuto il bottone Sbagliato Ho capito Però risvegliati allora Sì mi risveglio subito Sono qua Operativo Eh sono caduto Ma perché io non sono capace A fare i parkour Ragazzi I parkour sono Il mio trauma Cioè io salto Ma non riesco a fare Nemmeno uno scalino Ti rendi conto Eh sì Vedi Non ti preoccupare Ce la farai Sei molto supportivo Comunque Grazie Sì Prego Gli amici servono a quello Ok Adesso Andiamo sulla scala Bene Bene Ragazzi Ragazzi Eh niente Entriamo tutti nell'elicottero Voi che dite amici miei Eh Eh Sì Si entrano tutti nell'elicottero E si fa Tutto bello Ma dio mio Che problemi hai Guarda non lo so Dopo dicendo una cosa Non dicibile Scusa Ah Ecco che problemi hai Ok quindi Da qua si parte con l'elicottero Si va Via Finito Finito Bene ragazzi Sì Abbiamo ucciso e sconfitto Cinstoni Che siamo scappati dalla prigione Anche se adesso Ci rifacciamo vedere nella prigione Ma vabbè comunque Questo Siamo scappati Siamo scappati È stato bellissimo Vedete qua c'è l'uscita Ed è finita Per fortuna Woohoo Weee Lasciate like Mi raccomando Un sacco di like